aveva iniziato il tavolo finale da chip leader ma conquistare le poker club live series non è stato facile per andrea michelotto sì non è stato facile è stato un torneo abbastanza duro penso di averlo giocato abbastanza bene senza mai compromettermi troppo in piatti grossi ho chiuso il day 1 secondo in fish e il day 2 quarto il day 3 da chip leader ho sempre fatto un torneo al di sopra dell'everage naturalmente con la giusta dose di fortuna che ci vuole nei tornei è andata bene quando l'azione è rimasta 3 ended forse hai pensato di poterlo anche aver perso questo torneo quando è stata eliminata la terza giocatrice giorgia michelotto sì ho chiamato con coppia di 6 fantini ha chiamato solo con coppia di 10 è andato fantini con i tristi 10 abbiamo iniziato un e zap 2 a 6 e quindi è stata abbastanza dura poi ho raddoppiato io nell'unico showdown delle zap fino arrivare alla mano finale asso 10 contro asso 7 questo successo sposta qualcosa nella tua carriera pokeristica no a parte la grande soddisfazione no mi ritengo più giocatore da cash visto che sono quasi tutti i giorni a venezia sono abbastanza regular a venezia cash mi diletto nei tornei però da parecchi anni ecco un'ultima domanda te la faccio sui tuoi tatuaggi vedo che quanti ne hai ma non lo so comunque quello è il mio lavoro principale io faccio il tatuatore è uno studio di tatuaggi a padova per chi volesse grazie mille congratulazioni grazie grazie a voi